Con Leonora Barbiani, segretario generale della Camera di Commercio Italo-Russa. Oggi si parla della certificazione nell'area eurasiatica. Quanto è importante per le imprese che intendono sviluppare il loro business in quell'area in questo processo di internazionalizzazione? Sicuramente l'argomento delle certificazioni è fondamentale per poter capire quale elemento, quale tra i tanti elementi deve essere affrontato e risolto da parte delle aziende italiane ed europee in generale che intendono affrontare questo mercato. Oggi ci concentriamo sulle certificazioni perché noi come Camera, dopo aver fornito alle aziende un quadro esaustivo della situazione degli scambi economico-commerciali, abbiamo deciso di fornire degli elementi utili e anche dei tecnicismi per affrontare in maniera consapevole un'esportazione. Ovviamente non è l'unico argomento, non è l'unico step che un'azienda può e deve risolvere perché c'è tutta una fase di preparazione, di comprensione delle proprie logiche interne aziendali e del contesto economico-commerciale di relazioni che si va ad affrontare, ossia quello del mercato russo e quindi poter capire questo argomento in abbinata con tanti altri che sono poi il fulcro di incontri passati e lo saranno anche di incontri futuri, è un aiuto per le imprese per poter affrontare il mercato e esportare in maniera consapevole e senza rischi. Parliamo anche delle iniziative che quindi la Camera di Commercio Italo-Russo intende intraprendere sotto questo particolare aspetto. Sono tante, ce ne sono già in calendario qui a Milano e anche in collaborazione con altri nostri partner. Quindi l'importante è tenersi sempre aggiornati rispetto alle nostre iniziative che si possono trovare tranquillamente sul nostro sito.